Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole Oggi è il 4 giugno 2019, è martedì e lascia ai dimostri il trade profittevole che ho fatto Allora, questo è il range bitusa di ieri Come vedi, ieri abbiamo avuto questa giornata tendenzialmente al ribasso con il POC, che è chiuso proprio nel punto di mezzo, vedi qua Tornate alla session Il mercato è rimasto dentro il range di ieri bitusa e poi nella London session ha rotto a rialzo In questo scenario, dove vedi il mercato inglese, la sessione inglese ha rotto sopra il massimo bitusa di ieri e sopra il massimo bitusa di due sessioni fa stavamo aprendo in un gap up piuttosto importante In questo scenario, io ho aspettato la prima occasione profittevole per comprare alla chiusura di questo gap qua Ok? Ti faccio vedere subito Come vedi, sono le ore 15.52 Quando prima ho visto questa veloce accelerazione che stava rallentando proprio a diversi tic prima di questa linea nera che è il massimo bitusa di ieri Io ho comprato, assieme a Smart Buyers, pesantemente con 5 posizioni proprio sulla chiusura del gap sulla falsa chiusura del gap con target 3 tic sotto questa linea blu che è il massimo overnight Bene, come vedi, vi diceva un bellissimo sequenza dei grani con un grosso ordine di acquisto di 2.351 ordine in quel momento tutti i Smart Buyers Va bene, il mio stop loss è praticamente sotto 1 o 2 tic il BWAP della sessione elettronica a 1 minuto vedi questo qua questa è la grafica a 5 minuti Bene, il primo target è praticamente su quel massimo bitusa di due sessioni fa credo sia stata di venerdì l'ultimo target è dove prima Bene, il mercato, come vi vedi, dopo la mia entrata accederà fortemente perché ci sono trapped sellers ecco perché il mercato accederà così violentamente ci sono tutti questi buying balances perché i sellers che sono trappolati devono ricomprare per uscire e limitare le loro perdite Il mercato mi va subito a prendere i miei primi 3 target a questo punto muovo il mio stop loss da qua sotto il COT di questa andrea 5 minuti poi il mercato purtroppo fa un pullback sta un po' lì ma poi fa un pullback e mi stop mentre li sto profi ma poi importa perché come vedi anche dal graffio futbile 30 minuti gli smart buyers avevano comprato a 1 o 2 tick dalla linea nera che mi ha soppituto di ieri e poi avevano comprato un po' più sopra quindi questo era il più importante supporto dinamico in quel momento nel mercato e questo 3 profittevole lunedì della giornata mi ha portato vicino al mio daily target di 987 dollari quindi amico se anche ti vuoi dare in questo modo fare anche meglio di vedere il mercato dei fici e altre opzioni allora scrivi lo stesso adesso e mando il link sotto a questo video ciao ci vediamo domani